Addestato perplessità in alcuni frequentatori del Parco delle Cascine di Tavola, l'intervento di forestazione appaltato dalla regione toscana in diverse aree del parco stesso. Si tratta di un bando di quasi un milione di euro appaltato per 719 mila euro, con ribasso d'asta del 28%, ad una società romagnola e da questa subappaltato ad un vivaio di Pistoia. L'intervento ha visto la piantumazione di un migliaio di alberi di diverse specie in zone precedentemente sguarnite o ricoperte da vegetazione infestante. L'inizio dei lavori risale alla fine del 2020 e l'intervento è in via di conclusione. Molti alberi hanno però i rami secchi, così come completamente arido, complice la siccità e il terreno su cui affondano le radici. Anche il comune di Prato è preoccupato per le condizioni di salute delle piante e scriverà alla regione, competente per la gara, per chiedere un intervento. Altri alberi, un centinaio di lecci collocati nei viali principali del parco un anno prima dal comune di Prato, appaiono in condizioni assai migliori. Come amministrazione scriveremo appunto alla regione affinché venga a sostituire quelli che si sono, appunto, i cui attecchimento non è avvenuto e soprattutto che effettino la manutenzione e l'irrigazione perché altrimenti si rischia che questi alberi, una buona parte, nei prossimi anni, insomma, non riusciremo a vederli crescere. Interpellato sulla questione, il responsabile unico del procedimento per la regione toscana, Sandro Pieroni, esclude che ci siano criticità. Non tutte le piante sono della stessa specie, per alcune la ripresa vegetativa è già iniziata, mentre per altre arriverà nelle prossime settimane, afferma Pieroni, secondo il quale la ditta incaricata ha effettuato un buon lavoro, curando le piante e l'irrigazione per un anno, come previsto dalla Convenzione e come dimostrano i controlli eseguiti. Il responsabile del procedimento afferma che la prossima settimana è previsto un nuovo sopralluogo per la verifica degli attecchimenti e per attestare la fine dei lavori. Se ci sarà qualche altra pianta disseccata da sostituire, lo faremo come abbiamo fatto finora, afferma Pieroni, ma si tratta di una piccola percentuale del totale delle piantumazioni, intorno al 3%, che è un dato fisiologico. Una volta attestata la fine dei lavori, la palla dell'irrigazione passerà al Comune di Prato tramite Consiag Servizi, che in genere, spiegano i tecnici della partecipazione, per le piantumazioni curate direttamente, provvede ad irrigare i nuovi alberi per almeno due anni.